La situazione, stare nel contesto, viverlo comunque con le altre persone pure, ha dato automaticamente anche l'impronta della realizzazione. Quindi non è che mi sono fatto ispirare da determinati elementi, è stato proprio il flusso di quello che è successo, di come abbiamo vissuto questa esperienza che mi ha portato a realizzare quello che ha fatto. È stata una cosa molto spontanea.